A riguardo delle restrizioni volute dal presidente della regione campania Vincenzo De Luca per cercare di abbassare la curva dei contagi che nelle ultime settimane ha fatto registrare un consistente e preoccupante balzo in avanti, sicuramente quella di chiudere le scuole primarie e secondarie è stata la decisione che ha provocato maggiori polemiche tra i genitori che ritenevano e ritengono non si sarebbe dovuto rinunciare alle elezioni in presenza, soprattutto per i bimbi che frequentano i primi anni della scuola elementare. Decisione presa da De Luca in contrasto con il DPCM di Conte e con le direttive della ministra Azzolina e che il governatore ha giustificato col fatto che nelle ultime settimane nella fascia di età scolare i contagi si erano moltiplicati in maniera incredibile. Ebbene, oggi si è svolta la riunione a cui erano i rappresentanti del mondo della scuola, i sindacati e la direzione scolastica, con i dirigenti delle ASL, dell'ospedale Santo Bono e i componenti dell'unità di crisi in cui si doveva decidere se riprendere o meno le elezioni in presenza. Nel quadro generale di particolare gravità, si legge nel comunicato stampa postato nel primo pomeriggio da De Luca sul suo profilo Facebook, nel confronto è stata innanzitutto evidenziata la grande attenzione della regione verso il mondo della scuola, ancora nelle ultime settimane, come già alla fine dell'estate, con lo screening di massa per il personale docente e non docente e l'acquisto dei termoscanner. È stata affrontata e discussa l'ipotesi della ripresa di didattica in presenza, almeno per i primi due anni della scuola primaria, ed è stato illustrato il dato epidemiologico che riguarda questa e le altre fasce di età scolastica. Sulla base dei dati sull'andamento epidemiologico dell'unità di crisi delle ASL e del Santo Bono si è congordato sulla necessità di verificare la situazione nei prossimi giorni. Va monitorato se si registrerà un raffreddamento del contagio relativo alla scuola primaria, tale da consentire un allentamento delle misure già prese, in condizioni di piena sicurezza per gli alunni, il personale e le famiglie. È stata condivisa inoltre la necessità di utilizzare comunque questi giorni per prepararsi al futuro, in particolare in tema di trasporto pubblico. Ho informato i partecipanti che altri 250 bus di società private saranno destinate al trasporto con uno stanziamento di 4 milioni di euro e si lavorerà insieme anche per ulteriori iniziative di sostegno al mondo della scuola. Nel frattempo proseguono i progetti scolastici per le fasce più deboli, per la didattica di sostegno, per garantire un ampliamento dei concedi parentali per i genitori come già richiesto al Governo e bonus destinati all'acquisto di tecnologie utili alla didattica a distanza. È stato importante registrare, conclude il comunicato, un clima di grande collaborazione e grande senso di responsabilità fra tutti i partecipanti a questo importante confronto.